questa è la seconda parte del video quando ci vedete su internet pensateci sempre che noi siamo quelli che vi facciamo ridere però se ci incazziamo le facciamo pure piangere diglielo stiamo incazzando io piangendo tutto il mondo diglielo diglielo stai incazzando mi stai incazzando diglielo 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 che fuma a te la sigaretta che tu hai ruso? fuma come un turco a te la sigaretta si è affumato che tocca? che tocca? fuma come un turco a te la sigaretta a te la sigaretta e tu perchè non riprovare? non nemmeno a te la sigaretta a te la sigaretta a te la sigaretta e tu non l'hai fatto? ci sono trovate la sigaretta ma c'era poco o no? già 37 oggi già cosa c'è oggi? 37 oggi disgrazio di 17 è vero? no no la vai a giocare il numero 77 oggi viene ah oggi è 17 e domani? come viene? il 17 domani è pure 17 e cattò ora cattò a mezzanotte ho capito oggi 17 e domani 17 allora tutti i giorni 17 guarda la guarda guarda qua quanto siamo belli forza siamo la coppia bella del mondo forza che sono tristi che sono tristi i piedi d'ho detto mamma mia la puzza mamma mia ho sentito un piede tu, un piede tu ma buttaci ora puzza, hai detto puzza c'è pure una batteria si scarica questo piede tu staccavo